Si chiude con le polemiche il 2015 politico della città di Cetraro. L'inaugurazione del pala Giordanelli si è portata dietro a uno scontro a distanza tra il circolo del PD e l'assessore allo sport Tommaso Cesareo. Ai democrat cetraresi non sono andate giù le esternazioni rilasciate nel corso della giornata dove nessun accenno è stato fatto al lavoro della precedente giunta. Il clima politico che si sta creando a Cetraro, scrivono dal PD, costituisce motivo di preoccupazione per il corretto rapporto che dovrebbe invece persistere tra la maggioranza che governa e l'opposizione che controlla e critica. Le esternazioni sul pala Sport sono state viste come l'ennesima provocazione, una menzogna e un tentativo maldestro di mortificare l'esperienza positiva di chi ha amministrato precedentemente. Così si finisce soltanto per allargare le distanze tra maggioranza e opposizione proseguono i democratici con il risultato che l'intero quadro politico subisce una forte involuzione e degenera in scontri e polemiche tutt'altro che utili alla città. Secondo i PD, l'assessore Cesario è riuscito a trasformare una giornata di festa per il mondo sportivo in un'occasione di mortificante strumentalizzazione che ha pesantemente inasprito il contesto politico in cui l'inaugurazione del pala Sport è avvenuta. Nessun riferimento ai predecessori, a coloro i quali avevano iniziato il progetto di riqualificazione. In primis l'ex assessore Quercia e l'ex sindaco Aieta difesi a spada tratta dal Partito Democratico Cittadino. Se non si riconoscono i meriti di chi ha lavorato nel passato spiegano dal PD è fin troppo evidente che la scelta strategica dell'attuale coalizione è quella di inasprire lo scontro e di compromettere la normale dialettica tra maggioranza e opposizione. Il mancato riconoscimento verso Quercia e Aieta è sorprendente e non pone le basi per la crescita della cultura politica nella città. Grazie a tutti.